Bellissime le parole del Presidente e ora sentiamo la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Buonasera a tutti. È un vero piacere partecipare a questo evento in onore di Nilde Iotti, autorevole protagonista della storia della nostra Repubblica. Saluto l'onorevole Livia Turco, la professoressa Marisa Malagoli Togliatti e tutta la Fondazione. Grazie per la preziosa attività con cui tenete viva l'eredità morale, politica e istituzionale di Nilde Iotti. Come primo Presidente donna del Senato, sento di avere nei suoi confronti un forte sentimento di riconoscenza per il ruolo determinante avuto nel difficile ma straordinario percorso di emancipazione femminile. Esponente della resistenza, fu responsabile dei gruppi di difesa della donna durante la guerra di liberazione. Eletta l'Assemblea Costituente e poi, nella Commissione dei 75, diede prova di spiccato talento politico. Questa esperienza segnò il suo percorso e il suo impegno nei 53 anni di vita parlamentare. Da Presidente della Camera dei Deputati, per ben 13 anni, dimostrò grande equilibrio e capacità di mediazione. Ricordarne oggi la figura in un momento così drammatico della nostra vita individuale e collettiva significa valorizzare la sua testimonianza come modello sul quale ricostruire un paese più forte e più inclusivo. Una testimonianza, la sua, sempre attuale. Penso al contributo decisivo per l'affermazione della piena uguaglianza delle donne nella famiglia, nel lavoro e nella società. Penso alla sensibilità, alla lungimiranza con cui incoraggiò e sostenne le riforme istituzionali. Il suo obiettivo, così importante anche oggi, fu sempre quello di dare concretezza al principio del Parlamento come luogo di confronto dialettico, centro della vita politica del paese e guida del processo di cambiamento. Penso alla grande capacità di visione con cui comprese che solo un'Europa unita e forte avrebbe garantito la crescita della società e delle democrazie nazionali. Penso poi a quella sua naturale propensione, fare prevalere sempre, anche nelle più drammatiche circostanze, le ragioni dell'unità, le ragioni della condivisione delle responsabilità rispetto alle divisive convenienze politiche. Una dedizione incondizionata ai valori fondanti della democrazia che ancora oggi rappresenta per noi un prezioso punto di riferimento. Per questo mi sento davvero di condividere con tutti voi il sincero sentimento espresso dalle significative parole che danno titolo all'evento. Grazie, Nilde.